Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti in Restart Italia, il nostro programma di incontro e di confronto con i protagonisti dell'innovazione. Come al solito andiamo con la sigla e poi presentarvi l'ospite di oggi. Allora, eccomi che arrivo. L'ospite di oggi è un caro amico, una vecchia conoscenza. Abbiamo anche dei passati trascorsi comuni e quindi con grande interesse, voglia e anche onore l'ho invitato a farsi questa chiacchierata con me. Sto parlando di Stefano Ronaldo, docente di teoria e tecnica di comunicazione pubblica tra le altre tante cose che fa all'Ulme di Milano. Come stai Stefano? Benvenuto. Grazie, grazie per l'invito, sto bene. Guardo con stupore, qualche volta con dolore, ma anche con speranza la situazione che abbiamo attorno, pensando che siamo entrati in un anno in cui dobbiamo dismettere pensieri cupi e cominciare a riprogettare e a lavorare un po' come i milanesi del primo dopoguerra, alle ricostruzioni. Senti, appunto dicevo anche esperienze comuni, ne abbiamo fatte tante anche professionalmente parlando, ma insomma quella del census è un qualche cosa che ci accomuna e che sicuramente forse, almeno per quanto riguarda una delle più importanti esperienze che mi sono portato fino ad oggi, insomma. Non c'è dubbio, ha accompagnato una generazione il census, quindi anche la mia. Cosa stai facendo in questo momento in particolare? Sei sempre stato vulcanico in termini di iniziative? Guarda, io mi occupo di un po' di questa materia che è declinata perché è stata a un certo punto invasa da… non è riuscita a esprimere tutti i ruoli e tutte le potenzialità che in fondo in Europa ha cercato di avere e che a un certo punto ha anche avuto. In Italia è stata un po' compressa dalla politica da una parte, da una certa giornalistizzazione dei processi comunicativi pubblici, da un uso non sempre corretto della rete e pur essendo una marea oggi gli operatori di comunicazione pubblica viono in sofferenza strategica, non sono riusciti a entrare nei grandi perimetri su cui per esempio in Europa, in alcuni paesi europei sono entrati. Quindi la cosa che principalmente attraverso un lavoro sulla pandemia che è quello che più mi ha impegnato in questi mesi, l'università mi ha affidato un osservatorio sul rapporto tra comunicazione e pandemia, questa cosa naturalmente il monitoraggio quotidiano offre infiniti spunti di confronto, cosa che mi ha permesso di produrre un paio di libri, uno dedicato proprio alla pandemia come laboratorio di comunicazione pubblica, un altro un libro intervista con una figura molto esemplare della comunità milanese come Piero Bassetti che però ragiona sull'innovazione e quindi all'occhio attento a capire cosa succede dopo, cosa c'è oltre e non semplicemente a guardarsi alle spalle. Bellissimo, bellissimo considerando che stiamo parlando di un uomo di oltre 90 anni insomma. Sì sì, è un periodo che è un periodo che li frequento con piacere gli ultranovantenni perché sono tutti presi da, sono la categoria degli italiani che sta meno sul presente, vivono giustamente nella connessione col passato e però hanno una gran voglia di futuro e questa è una metodologia che oggi col presentismo che abbiamo attorno non è frequente nella nostra classe dirigente. Bellissimo, infatti proprio per questo motivo il libro su Bassetti l'ho comprato, con Bassetti l'ho comprato. Senti ma mi viene in mente sempre quando parliamo appunto di questa, in effetti questo guardare avanti dei novantenni mio nonno che era un contadino, aveva fatto la terza elementare, però lui guardava, progettava il futuro e mi ricordo quando appunto aveva 87 anni che una volta parlando di un piccolo terreno che avevamo e cominciava a dire qua, piantiamo questo, questo albero, questo fra vent'anni ci dà i frutti, quest'altro fra trent'anni diventa una bella pianta che è, e io lo guardavo con un'ammirazione, da ragazzo non essendo capace di guardare al dopo domani, quindi queste tue cose che dici mi fa venire in mente. Ma io penso proprio che, ecco vedi che questi sono spunti metodologici di fondo perché stiamo annegando in questo presentismo impaurito peraltro in cui la crisi della cultura delle riforme non ci fa progettare a lungo né la politica né l'impresa e quindi dobbiamo ricorrere a queste protesi intellettuali che esistono ancora e inspiegabilmente sono più nelle persone anziane che nei giovani, ma sarebbe ora che i giovani ecco acchiappassero questo metodo. Piero Vassetti fa una valutazione semplicissima e applicabile proprio a questo passaggio adesso d'anno verso un 2021 che obbliga a fare progetto, dicendo una cosa semplice, che che l'innovazione è una spinta inevitabile. Fra l'altro noi assistiamo a una velocità nel campo della ricerca scientifica applicata ai vaccini in questo momento che è poderosa, che è stata una cosa che dovrebbe scuoterci positivamente. Una comunità internazionale che sta lavorando con una capacità, competenza, pluralismo, mettendo in rete conoscenza. Ma anche con delle soluzioni che poi impatteranno positivamente anche su altre malattie, perché questa soluzione genetica che hanno trovato è una cosa che fa oltre. L'innovazione non è una chiacchiera, è lì e la vediamo, la guardiamo in faccia e lui dice guarda l'innovazione altro non è che l'accadimento dell'improbabile, il problema è che se sull'improbabile non lavoriamo col pensiero, con la ricerca, col dibattito, perché abbiamo gli occhi fissi sulla nostra pozzanghera e noi non ce ne rendiamo, neanche la percepiamo l'innovazione. Bisogna lavorare sull'improbabile e non fare pessimismo di maniera. È un po' il pensiero di Taleb con il suo cigno nero e soprattutto con l'antifragile. Lui dice proprio questo, l'improbabile arriva, siamo noi che dobbiamo avere la capacità di gestire e di trasformare, ed è il suo concetto di antifragile. La persona che affronta una minaccia non solo non è fragile, non solo reagisce, ma addirittura l'antifragile dall'improbabile crea innovazione, è in effetti interessante. L'ho letto anch'io e mi ha colpito. Nel senso che poi se vai a vedere le nostre storie identitarie, io ho lavorato un po' sul tema del public branding e quindi sui processi identitari. Lavoravo su Milano in questi anni che ha avuto nel Novecento cambiamenti identitari epocali più volte, quasi dieci cambiamenti in stagioni identitarie diverse e vedevo che la gran maggioranza di questi cambiamenti sono avvenuti per mano del destino, non per scelta delle classi dirigenti. Anzi, sono pochissimi i casi in cui sono le classi dirigenti che riescano a pensare e gestire il cambiamento. Ma quando hai la testa orientata al cambiamento e all'innovazione, non ti fai sorprendere e non rimani ammutolito dalla mattina alla sera quando il destino ti cambia il quadro attorno. Ci lavori, ti adatti, riprendi le tue tradizioni, cerchi di capire le piste nuove. Insomma, una classe dirigente può farsi fregare dal destino, ma in maniera non irreparabile e quindi ha la possibilità di reagire e di riorganizzarsi. Questo fa la differenza e questo fa parte di alcune tradizioni locali. In un certo senso faceva parte anche di un certo DNA italiano. In questo momento il processo è bloccato ed è bloccato da criticità che non sono solo di ordine politico. Andiamo con ordine, partiamo da questo. Questa crisi cosa ci ha insegnato rispetto a un'esperienza unica, particolarissima? Tu appunto hai lavorato, hai diretto, hai gestito e ci sta restituendo il lavoro di questo osservatorio. Cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi sintetizzare? Guarda, la parola proprio è giusta, che cosa abbiamo capito meglio e che cosa ci ha insegnato. Detta proprio in soldoni, la prima cosa che ci ha fatto capire per ben più di una generazione è che stiamo dentro una filiera storica delle epidemie, di cui avevamo perso cognizione, traccia, un po' in Europa ma in Italia. Io ricordo mia nonna milanese che diceva che ha fatto più morti la spagnola della prima guerra mondiale. La spagnola per quella generazione era un vissuto importante, fra l'altro che si saldava con i danni della guerra e quindi era una continuazione di una tragedia. Poi però per 3-4 generazioni siamo stati risparmiati da tutto. Oggi un intero paese, un intero popolo, parlo di tutto il mondo peraltro, di tutta l'Europa, si è trovata dentro una storia che è stata una storia straordinariamente importante nella vicenda dell'umanità, dalle pesti raccontate dal Boccaccio al Manzoni, dalle storie drammatiche di contrasto tra i flagelli e la ricerca scientifica. Noi abbiamo una dominante della storia del mondo di cui avevamo perso i significati. Ci siamo ritrovati dentro questa storia epocale. La seconda cosa che io penso che abbiamo capito è che il bisogno comunicativo legato anche a un bisogno di spiegazione è stato forte, una domanda anche forte da parte della gente, ma una fragilità di risposta sia dalle istituzioni, sia dalla politica, sia anche dalle imprese. Quindi i processi comunicativi legati, che sono quelli di cui mi occupo, legati a istituzioni, politica e anche al mondo economico produttivo è stato molto fragile rispetto alle attese al bisogno della gente. La terza cosa in cui noi ci siamo trovati, tirando proprio le somme a grandi linee, è che la pandemia ha riscattinato tanti dualismi, che sono un po' la cifra identitaria anche del nostro paese. Che ne so, la conflittualità Stato-Regioni, che si era sopita, l'abbiamo vista anche utilizzata per scopi poco nobili, trasferire, proiettare colpe, scaricare responsabilità. Però abbiamo rivisto questo film di un dualismo tra nazione e territori. Abbiamo visto un dualismo esprimersi a volte in maniera anche pericolosa nel rapporto tra giovani e anziani. Abbiamo visto soprattutto un dualismo della domanda sociale. Tu sei un sociologo formato proprio su questo tema della domanda sociale. Noi abbiamo visto che c'è un pezzo della nostra società che di fronte a questa crisi ha chiesto più spiegazione, più informazione, più responsabilizzazione. Probabilmente una domanda minoritaria. E abbiamo visto una parte sociale importante che si è accontentata, che ha chiesto tutela, ha chiesto protezione, ma non è stata capace di chiedere più informazione responsabilizzante. E questo ci ha fatto vedere che questo dualismo, forse il più grave, dipende da un tasso esagerato di analfabetismo funzionale di ritorno che in Italia pesa. abbassa la soglia della domanda di qualità e di conseguenza abbassa poi l'offerta di spiegazione, di accompagnamento, di responsabilità da parte dei decisori. In questo caso tutti compresi la politica, l'amministrazione e il sistema economico produttivo. L'ultima cosa che vorrei dire... Scusa Stefano, solo questo sul dualismo. C'è un dualismo che a me, tu sai, che noi abbiamo il nostro interesse principale sulla pubblica amministrazione e quindi sul lavoro pubblico. C'è un dualismo che mi ha molto impressionato, anche perché oltretutto è fomentato, sostenuto, alimentato da persone di grande spessore. Che è il dualismo garantiti e non garantiti. Lavoro pubblico contro lavoro privato. che è una cosa che sicuramente ha esasperato anche questa mancanza di coesioni sociali in questo momento. Anche perché io ho un piccolo modesto pezzo. Dico, se entriamo in questa logica che mettiamo i garantiti contro gli evasori, cioè entriamo in una logica di dualismo, anzi conflitto... E' un grande tema, è un grande tema che poteva essere utilizzato anche dal governo, dai governi, per una forte capacità di... da una parte responsabilizzare e dall'altra parte premiare gli apparati pubblici. Ci siamo limitati a ringraziare quotidianamente i medici e gli infermieri, giusto? Ma molti altri settori dell'impiego pubblico hanno reagito con dedizione, io penso al mondo della scuola, pur frastornato, pur all'interno di cambiamenti quotidiani. Ma coloro che sono stati messi a prova dando responsabilità hanno dato delle reazioni responsabili, hanno capito di essere in un quadro privilegiato, hanno capito che c'era un pezzo della società che li guardava storti perché avevano dei diritti e dei privilegi che non erano di tutti e dovevano dare prova della loro dedizione al bene comune. Chi lo ha fatto? Lo ha fatto con il plauso della gente. Non tutti sono stati messi in questa condizione. Da questo punto di vista l'uso indiscriminato di task force create con esperti, spesso anche come si fa in questi casi, selezionati in maniera fiduciaria, ha un po' umiliato le amministrazioni. Io non posso immaginare, ancorché il livello sia sceso, cambiato la qualità, ma che certi presidi non possono essere esercitati ancora da risorse interne. L'idea di lasciare ai compiti esecutivi le amministrazioni e sostituirle sempre in queste condizioni consulenziali da esperti occasionali, secondo me è stata una cosa deleteria dal punto di vista di responsabilizzare i, tra virgolette, privilegiati, attutendo così quel dualismo conflittuale che tu hai giustamente osservato. Tra l'altro Stefano, io una cosa ho notato che, e su questo mi piacerebbe una tua opinione, che io ho visto, ovviamente quando parliamo di pubblica amministrazione, dobbiamo dirlo, la pubblica amministrazione è un'articolazione che va dalla grande città, dal grande ministero, al piccolo comune trentino o siciliano che sia, quindi parliamo delle pubbliche amministrazioni. Però io ho visto una risposta, io ho visto un'energia, una risposta che prima non vedevo, tanto più, tu sai, noi abbiamo un po' cognato e alimentato questo termine della burocrazia difensiva, di una burocrazia che cerca di non cambiare, di difendere se stessa in passato. Io ho visto una grande energia, ovviamente con tempi diversi, capacità diversa, dinamiche diverse, sicuramente ad esempio chi aveva investito sul digitale ha dimostrato anche una capacità di risposta in termini di servizi ai cittadini e alle imprese superiore. Quello che mi chiedo, ma non è che manca il tema federatore, cioè che noi questa pubblica amministrazione adesso gli abbiamo dato uno scopo, un obiettivo comune, la minaccia è diventata un obiettivo e questo ha federato, rivitalizzando delle energie che fino adesso erano sopite. Io ho questa impressione, ovviamente, ripeto, parlo di un contesto molto ampio, però ho colto questa essere federati rispetto a un problema che poi è diventato un obiettivo comune. Sì, capisco questa percezione. Penso che sia giusta nel quadro in cui dicevo, cioè che chi è stato messo in condizioni di esprimersi e di responsabilizzarsi ha dato prove interessanti. E' mancata una narrativa pubblica che tenesse dentro tutta questa cosa che tu dici federare un sentimento, federare un'attitudine, federare un senso di responsabilità. E questo è un problema di carattere generale, di questa, come si dice, di questa difficoltà di dare dei perimetri valoriali attorno ai cambiamenti in corso, di interpretarli, di capirli, di dare parole d'ordine. Insomma, la difficoltà, chiaro che quando si è chiamati ogni giorno ad affrontare conflitti e si ha poca cultura interpretativa non si riesce a fare questa capacità di adeguato racconto di quello che sta succedendo. Questo purtroppo è successo, ma questa è una crisi di qualità della politica non solo italiana, però che ha anche altri esempi invece contrari. Noi per esempio abbiamo visto che insomma tutta la narrativa pubblica sulla vicenda della pandemia si è giocata sulla dialettica tra comunità scientifica e mondo del lavoro e della produzione, sistema dell'economia e del commercio. Questo confronto poteva essere salutare, intelligente, un po' guidato e interpretato. se tu lo vivi come una sorta di zigzag come dire, prudenziale in cui un giorno dai retta a uno, un giorno dai retta a un altro, un giorno adotti un pezzettino di una proposta, un giorno il suo contrario, mantieni viva un dualismo e una conflittualità anziché fare una grande operazione di mediazione e di sintesi. e questo è un problema di risorse culturali di chi governa e quindi poi ti manca la capacità di raccontarla quella mediazione, di spiegarla, di mettere tutti dietro allo sforzo di tenere dentro le due stanze, non di accontentarne una il giovedì e l'altra il venerdì. Una città va in giallo il sabato e in rosso la domenica. Un giorno devi dar retta alla comunità scientifica perché altrimenti hai una crisi di immagine e un altro giorno devi dar retta al mondo del lavoro e dell'occupazione perché ti rendi conto che stanno saltando i posti di lavoro. Il tentativo di interpretare questa mediazione dipende da una qualità culturale che poi si traduce in una capacità di racconto. Lì abbiamo visto fragilità, abbiamo visto altri contesti, noi citiamo sempre la Germania ma forse non è solo la Germania in cui questa mediazione è stata non solo più forte ma poi ha ripagato di più da questa crisi pandemica buona parte dei leader del mondo escano con le ossa rotte e la signora Merkel esce con un 82% di consenso del paese. Quali delle misure straordinarie che sono state prese tu salveresti ovviamente ridattandole però insomma pensando al dopo crisi cerchiamo di appunto come tu dicevi all'inizio vogliamo credere siamo convinti che il 2021 quest'anno che abbiamo appena avviato sarà un anno appunto di passaggio verso un dopo cosa manterresti come in un gioco in un infantile gioco della torre cosa butteresti giù cosa manterresti invece scusa se riprendo un attimo questa chiacchiera che sta in questo libro intervista con Piero Bassetti lui alla fine dice lui fa parte di una categoria borghese orgogliosa tendenzialmente fa parte di una comunità come quella milanese che era tutta trascinata dal clima del successo della trasformazione positiva da Expo in poi fine della cultura della malmostosità dei milanesi tutto va bene ci si è trovati poi intrappolati in questo modello di obbligo al successo e certe certi certe gaff sono state anche di ripetere quel modello quando ormai l'evidenza faceva vedere cose diverse lui dice prendere atto del ridimensionamento questo tema del ridimensionamento non vuol dire arretrare vuol dire abbassare i toni di un processo di sviluppo velleitario e riportarlo a delle condizioni di metabolizzazione possibile la metabolizzazione si fa quando ci sono sofferenze da metabolizzare quando ci sono difetti da correggere quando ci sono storture allora è evidente che in un momento in cui noi abbiamo la mobilità fermata i processi di velocità fermati i processi di attrattività fermati è evidente che il ridimensionamento vuol dire anche rimettere ordine nei parametri legati ai modelli di sviluppo quindi la parola ridimensionamento non è arretrare è riordinare i parametri in maniera responsabile e metabolizzabile questo è il passaggio dal 2020 al 2021 abbiamo davanti a noi riflettevo in questi giorni un'agenda internazionale che ci riguarda come italiani fra l'altro che permetterebbe di usare il ridimensionamento propositivo la revisione dei modelli quando si dice rivedere i paradigmi i parametri non sono chiacchiere sono rimettere in sintonia il grosso dell'opinione pubblica la condizione di un popolo in una metabolizzazione di questa grande difficoltà in cui ci si è trovati centinaia e migliaia di posti di lavoro saltati piccole e medie imprese che sono al limite della chiusura non sono cose che tu risolvi con quattro chiacchiere le risolvi con una una rigenerazione allora ne dico tre che l'agenda del 2021 letta con questa cultura del ridimensionamento e della riprogettazione ci offre forse tra qualche giorno viene convocata la conferenza sul futuro dell'Europa non sto parlando di una conferenza che durerà due giorni e tirerà fuori un comunicato stampa qualunque sto parlando di una conferenza che durerà due anni e che rimetterà in discussione tutti i temi di governance dell'Europa che metterà in discussione il discorso delle competenze delle velocità della della flessibilità dei processi decisionali dell'Europa che rimetterà in tensione un'economia che sta per indebitarsi in maniera colossale quindi la conferenza del futuro dell'Europa è una cosa nella quale o noi ci siamo dentro fino al collo in maniera da coprotagonisti o un'altra volta ne subiamo semplicemente gli effetti perché saranno altri gruppi dirigenti a promuoverla abbiamo in agenda la conferenza mondiale sul clima a novembre in Scozia dove caduto Trump tutta la filiera occidentale ha di nuovo la possibilità di rimettere mano a alcuni parametri dei modelli di sviluppo industriali è un'occasione straordinaria abbiamo questo G20 a presidenza italiana è una presidenza burocratica di una diplomazia contenta solo di trasferire carte o è l'occasione per uscire da questa prigionia che il 2020 ci ha assegnato di o stare con l'America o stare con la Cina e ritrovarci invece in una dimensione di multilateralismo in cui l'Europa ha un suo ruolo e noi nel nostro piccolo abbiamo un nostro ruolo di paese creativo ed esportatore come siamo allora o prendo tre esempi ne potrei prendere altri se il ridimensionamento è un abbassare le ali vivere in maniera pauperistica la crisi è un discorso ma se è riobbligarci a metabolizzare le difficoltà e promuovere nuovi parametri di riorganizzazione del futuro non dico che bisogna essere ottimisti bisogna introdurre il principio che questa cosa è possibile e è adesso ecco cosa manca manca una cultura politica una classe dirigente con responsabilità decisionale e che sappia che cosa significa la vera domanda che c'è oggi rispetto a paesi come il nostro rimettere mano a una cultura delle riforme invece si ha l'impressione che si mette mano a un allineamento di progetti ora i progetti non sono le riforme le riforme sono un modo di dare senso ai progetti noi ci avviciniamo alla preparazione di questa negoziato con l'Europa senza un minimo di inquadramento di un nuovo riformismo che darebbe senso visione prospettiva ai progetti che sono la parte molto più banalmente Stefano è quello che si è detto un progetto paese che poi cosa vogliamo essere nel 2030 e quali sono i progetti coerenti con questa visione dal mio punto di vista perché è proprio questo che manca è obbligato a cambiare l'interpretazione dei fatti proprio sull'interpretazione dei fatti e di conseguenza a ritarare le prospettive ma è chiaro che questa cosa appartiene a delle culture politiche che sono state in questi ultimi vent'anni umiliate un po' come ai tempi in cui le grandi ideologie massimaliste umiliavano il riformismo possibile e oggi siamo di nuovo lì la mancanza di pensiero lungo torna ad umiliare la cultura del riformismo ed è in questo momento la cosa più grave che possa capitare a un paese occidentale in cui il capitalismo tecnologico e finanziario torna a essere un ambito che va guidato non un ambito che assume in base a algoritmi ignoti le mani del destino collettivo e qui noi siamo con la classe dirigente che abbiamo e che abbiamo permesso di prosperare negli ultimi vent'anni andiamo a chiudere Stefano perché la nostra mezz'ora è andata velocissima l'abbiamo già passata andiamo a chiudere con delle indicazioni strategiche abbiamo detto non crediamo nelle task force e crediamo appunto in una pubblica amministrazione in istituzioni che devono crescere da questa opportunità cosa ti immagini appunto qual è il ruolo dell'APA in questo processo che tu dici qual è il ruolo delle istituzioni che conosciamo delle diverse realizzazioni territoriali con questo Stato non ti interrompo andiamo a chiudere vai prego qui ci sono moltissimi moltissimi ambiti la tecnologia sta facendo incetta del grosso della proposta capisco che nella trasformazione digitale ci siano molte risposte io le vedo dal mio angolo visuale e dal mio angolo visuale la guerra all'analfabetismo funzionale di ritorno resta secondo me l'obiettivo a cui la pubblica amministrazione deve dare un contributo per pubblica amministrazione intendo tutte le filiere professionali che operano nel sistema della pubblica utilità e quindi i grandi campi dell'educazione della salute dell'ambiente della sicurezza non la burocrazia ministeriale i grandi campi delle professionalità organizzate per la pubblica utilità allora io vedo che questo tema di adesso non so se sono valide i parametri che usava Tullio De Mauro che stimava l'analfabetismo funzionale in Italia al 47% un po' di anni fa ho visto che l'Ocse ha riordinato questi parametri ristretto un attimo il rapporto tra l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno e parla di 28-30% ma che noi abbiamo un cittadino su due o un cittadino su tre che non capiscano nemmeno quello che noi stiamo dicendo in questo momento che non leggono un libro che non interpretano una prima pagina di un giornale è un macigno su qualunque dei nostri ragionamenti hai un esercito di oggi possiamo dirlo 2-3 milioni di privilegiati tu lo devi mettere al servizio di una grande causa e la causa più importante di questo paese è ridurre il tasso di analfabetismo che modifica il rapporto tra domanda e offerta di decisione di scelte di opzioni dentro questa cosa c'è una legacy dell'esperienza che stiamo vivendo che ci ha portato in casa tutti i giorni la comunicazione scientifica sotto forma di virologi infettivologi epidemiologi finisce l'epidemia tutti a casa? io penso che finisce l'epidemia e noi dobbiamo trovare il modo in alleanza scuola università sistemi di impresa televisioni media noi dobbiamo tenere in tensione la qualità della proposta di comunicazione scientifico sanitaria perché il paese ne ha un bisogno estremo di essere di partecipare alla propria prevenzione e alla propria difesa l'altra cosa che noi dobbiamo fare è che questi diciamo la dicevo prima un'amministrazione al servizio di questo cambiamento lavora perché la mediazione tra i problemi della salute e i problemi dell'economia avvenga territorio per territorio ambito operativo per ambito operativo come una cosa possibile non come una cosa legata a un'invenzione comunicativa ma legata la compenetrazione di visioni di interessi abbiamo risorse per poter fare questa mediazione e assomigliare di più a un paese previdente e non a un paese che vive solo di annunce e di trovate capisco che non sono le cose più importanti agli occhi di chi ragiona in termini di economie tecnologie e quant'altro ma se c'è rimbalzo economico nei prossimi due anni si parla dal 4 al 5 alcuni dicono addirittura il 6% del PIL tu non è che lo devi rinvestire tutto in buoni del tesoro tu lo devi anche rinvestire in pratiche gestionali dell'economia e del rapporto di accompagnamento con un paese in grandissima difficoltà percettiva e quindi questa parte qua io penso che sia importante e che vada fatta però vuol dire dare altra mission al sistema delle pubbliche responsabilità e alla nostra vecchia ma non del tutto esaurita burocrazia grazie grazie Stefano avrei voluto parlare di tante altre cose ecco io so che tempismo almeno hanno aspettato che finisse l'intervista sì ma è quello che mi vuol cambiare è quelli che mi vogliono cambiare i contratti dell'energia che mi chiamano 12 volte al giorno che stanno tempestando sì infatti altre 12 volte al giorno mi chiamano quelli che vogliono che io faccia la prova per l'amplifon piuttosto che arrivata la terza età avrei voluto parlare di smart working avrei voluto parlare di scuola avrei voluto parlare di Milano e di tante altre cose ma il tempo è questo sarà un'altra occasione grazie una bellissima chiacchierata ringrazio l'onora Sisci come assistente alla produzione sì molte grazie è stata molto carina Maurizio Costa poi Maurizio Costa aspetta in post produzione vengo da te grazie grazie Stefano è stata una bella chiacchierata e non posso che invitare a leggere i tuoi libri che sono appunto legati a questa attualità così importante una chiave di lettura così importante per un contesto e un momento così importante ciao Stefano buon lavoro grazie ciao 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 Grazie a tutti.